in un primo momento mi ha dato qualcosa e quello mio perfetto, sonno perfetto ora vuole entrare dentro di me e posso sentirla lei può vedermi quando danzi la coreografia di un'altra rinasci e immagini di chi l'ha creata non mi sembra vero di essere qui Madame Blanc è incredibile e tu è sempre la passione che mette nel suo lavoro devi decidere che cosa vuoi essere per questa compagnia in quell'edificio c'è più di quello che si vede, dottore vivi con della gente pericolosa tre madri prima di Dio, prima del demonio mater tenebrarum mater lacrimarum e mater suspiriorum tenebre lacrime e sospire tu hai stretto un patto con loro non so proprio di cosa parli è tutto un disastro un disastro in scena un disastro qui un disastro in arrivo che piacように un disastro in salto Grazie a tutti.